Artemisia battere via di qua Artemisia, prostitute, papponi, ubriachi e assassini eccellenza, io non lo so se fra Agostino e Artemisia ci sono stati rapporti cartagli oh già Orazio Gentilischi mi mandava lì andavano là per scoparsela è una puttana ci sono i pianeti che girano intorno al sole mentre il sole invece fermo lì soia strana trovo questo libro oltragioso e sacrilego diffamazione che cos'è? oddio il barocco sta morendo è più brutta del legio è la bestia in Inghilterra, la guerra civile che incombeva da nord a sud di Europa e mio padre non venne a... porca miseria ti voglio bene papà un sole stante di lucidità non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.